Buongiorno da FTA Online, partenza a razzo questa mattina per i principali mercati azionari europei, abbiamo il nostro Futsimib in questo momento in guadagno del 2,15% circa, siamo a 23.185 punti, molto vicina a resistenze di area 23.250, oltre alla quale l'indice potrebbe recuperare i 23.500 punti. Ci sono molti titoli in forte rialzo questa mattina, alcuni hanno anche un quadro grafico interessante come ad esempio Saipem, per il quale Deutsche Bank ha alzato il giudizio da Sell a Buy con un prezzo obiettivo portato a 13,50 Euro, quindi addirittura di sopra dei massimi dello scorso maggio. Il titolo è stato penalizzato recentemente da voci di un aumento di capitale, ma con il movimento di oggi potrebbe iniziare una nuova fase positiva, vediamo infatti che i minimi di settimana scorsa, toccati sia giovedì sia venerdì in area 9 Euro, sono praticamente coincidenti con il 61,8% di ritracciamento dei rialzi dai minimi di gennaio, quindi una quota di supporto molto rilevante sulla quale i prezzi hanno disegnato questo piccolo doppio minimo, un tweezer bottom nel linguaggio delle candele giapponesi. Oggi il titolo vale già a 9,70 Euro circa, quindi siamo rimbalzati in modo deciso rispetto ai minimi della scorsa ottava, c'era una prima resistenza a 9,66 Euro, quindi praticamente sui livelli attuali, offerta dal lato superiore del gap ribassista del 18 di giugno, in caso di superamento dei 10 Euro il target si sposterebbe sulla ricopertura di un altro gap ribassista, lasciato questo invece il 4 di giugno con un lato superiore a 11,70 Euro circa, quindi al di sopra i 10 Euro si aprirebbe un discreto spazio di crescita che permetterebbe di prospettare anche l'acquisto del titolo con uno stop da mantenere tuttavia subito al di sotto di a 9,60. Per tornare positivi anche in ottica di medio termine sarà invece necessario il superamento dei massimi di maggio a 12,83 Euro, un'eventualità tuttavia che non è così improbabile dato che con il movimento ribassista visto nel corso del mese di maggio e poi proseguito nella prima parte del mese di giugno potrebbe essersi completata la fase correttiva del rialzo che abbiamo visto nel minimo di gennaio, un rialzo che avrebbe quindi la possibilità ora di riprendere per andare a completare, a interessare la parte alta di questo canale crescente con i prezzi quindi diretti verso i 14 Euro. Veniamo ora a un altro titolo molto interessante questa mattina, STM, per STM Barclays ha alzato giudizio da Equal Weight e da Under Weight e il target price è stato portato a 7,80 Euro da 5,90 Euro. I prezzi hanno messo a segno un deciso rimbalzo, questa mattina siamo a 7,35 dopo aver toccato sia giovedì che venerdì della settimana scorsa con i minimi di aria e 7 Euro la linea di tendenza che sale dai minimi dello scorso ottobre. Con il ribasso che c'è stato nella parte centrale dell'anno, i prezzi come vediamo hanno ritracciato esattamente il 61,8%, quindi con i minimi di maggio sono arrivati a 6,72 Euro, quota coincidente con il 61,8% di ritracciamento del rialzo dai minimi dello scorso ottobre. Quindi anche in questo caso come per Saipem sarebbe possibile immaginare che la fase di recupero attuale sia non solo un tentativo di rimbalzo, ma una vera e propria ripresa di un trend rialzista di medio e lungo periodo destinato quindi a durare nel tempo. Conferno in questo senso, verrebbero prima al di sopra del picco del 28 di maggio a 7,95 Euro, poi con la ricopertura del gap che si è aperto il 30 di aprile che ha un lato superiore a 8,23 Euro, quindi al di sopra di area 8,8,20 Euro avremo la possibilità di vedere risalire il titolo tra 9,50 Euro e 10,50 Euro, quindi una situazione grafica sicuramente molto interessante. C'è solo da fare attenzione in caso di discese al di sotto dei minimi della scorsa ottava, quindi al di sotto di area 7 Euro, perché in quel caso anche il supporto di area 6,70 potrebbe essere messo in discussione e potrebbe avviarsi una fase negativa di una certa importanza, quindi positivi, incrementare la posizione di sopra degli 8 Euro con uno stop subito al di sotto dei 7 Euro. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento per domani con il consueto commento giornaliero alla stessa ora. Grazie.